Oggi è domenica. Sì oggi è domenica certo. Buongiorno. 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 Ma come si è comportato? Ma malissimo malissimo. Come si è comportato? E' andato in farmacia anche a comprare le supposte ma sono le supposte per la paraculite. E' vero? E' una paraculite acuta. E' vero? Con sottopalla sganciante. Confermi che c'è la paraculite? Confermi o no? E' vero 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 che c'è la paraculite? E' vero o no? E' vero o no? Ma voi altri due cazzo. Ma voi altri due cazzo che c'è? Ma che carattere c'è? c'è un carattere di uno che conosco io che si ringhia sempre è vero è vero signore chi è o no che è o no questo è tornato anche massimino polli dice che c'aveva un pollo l'ha fatto incazzato c'era in padella arrabbiata ma i cipollini come stai è un po muscio che cipollino